Siamo con Simone Barlam, record europeo qui a Lignano. Facciamo la classica domanda, se è più stanco o più contento? Diciamo stanco col pensiero ai prossimi giorni che verranno di altre gare, però sono anche contento allo stesso momento. È un equilibrio abbastanza bilanciato tra le due sensazioni. Bene, equilibrio tra felicità e stanchezza. Ha parlato dei prossimi giorni perché non è finita, che cosa ci aspetta? Domani venerdì il cento d'orso, sabato 50 stile e staffetta mista al pomeriggio con i ragazzi della Pola Varese dove farò la frazione d'orso. E domenica cento delfino e la staffetta 104% stile, perciò ci sono ancora un bel po' di giorni intensi a venire. E la piscina di Lignano è perfetta per fare il record? Diciamo che per ora sì, come primo giorno, una bella introduzione, un bel modo per rompere il ghiaccio con la piscina di Lignano, che io adoro e l'atmosfera in generale qua, come ho già detto, è una delle mie preferite. Perfetto, state con noi perché ci sarà ancora da divertirsi. Assolutamente. Grazie. 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 Grazie.